e per istitulare questo applauso, questa ovazione di questi ragazzi e dei confronti del loro maestro direttore Andrea Bossa posso dire fino adesso che nel maggio del prossimo anno saremo di nuovo qui a Marengo nel parco di Marengo per celebrare l'anniversario della grande totale di Marengo così ha detto il dottor Poggio del Museo Marengo così ha sostenuto la dottoressa Rita Rossa vicepresidente della dottoressa Rossa che si scusa che c'è la mia prima che c'è di non perdere ma comunque è stata completamente soddisfatta dalla nostra esibizione, dall'esibizione di questi ragazzi e dall'esibizione dei nostri ragazzi facciamone fare ancora un bel po' vista, vista in vista, poterò chiedere un grande applauso per due amici di quella della MIMA due amici di questi ragazzi che hanno veramente lavorato tantissimo con me e un'altra frazione per domaticare la vicepresidente e una autentica ragione per l'incenzo Pistres grazie a tutti i nostri amici e allora vai con Pistres